signori buongiorno e bentornati sul canale del master car io sono il master car il vostro ospite su questo canale anche se questa settimana abbiamo un cost speciale perché è tornato a trovarci il pellegrino questa settimana avremo un video un po sui generis perché discutendo su quale fosse più importante per un master tra la preparazione e l'improvisazione al tavolo come avete visto al titolo e accidentalmente praticamente sorto un dibattito e abbiamo preferito registrare il tutto e quindi questa settimana vedrete la versione estesa della discussione che abbiamo avuto tra di noi sul suo podcast vi lascio tutti i link poi nella descrizione del video potrete vedere la versione revisionata video di oggi è particolarmente lungo quindi non vi rubo altro tempo ci rivediamo alla fine del video signori buongiorno e benvenuti questa volta non nel canale del master car ma sul posta del pellegrino io sono il master car e sono ospite questa settimana perché terremo un dibattito su la preparazione contro l'improvvisazione nei giochi di ruolo io sono qui a rappresentare la preparazione e ho qua una lista di punti che mi sono preparato su cui bisogna discutere beh io questa volta sono a rappresentante dell'improvvisazione è come giusto che sia non ho preparato assolutamente niente se non un bel titolo e sono il pellegrino proprietario host del podcast e ospite invece del canale del master car non solo questa volta ok allora prima di iniziare col dibattito bisogna fare una premesta noi oggi andremo a parlare se è più importante preparare o se è più importante improvvisare però bisogna dire una cosa per onestà intellettuale non è possibile giocare di ruolo o almeno masterare un gioco di ruolo senza fare entrambe le cose per quanto uno voglia improvvisare sia bravo improvvisare perlomeno le regole del gioco bisognerà leggerle poi a seconda del gioco bisognerà preparare più o meno materiale ma arrivare al tavolo totalmente allo sbaraglio non è affatto consigliato dell'altra parte il gioco di ruolo non è qualcosa che si fa da soli ci sono altre persone e il centro del gioco di ruolo sono i giocatori le loro scelte per cui qualunque quantità di cosa abbiate preparato sicuramente i giocatori con il loro contributo vi incasineranno i piani e quindi a un certo punto volenti o nolenti dovrete improvvisare qualcosa e adattarvi a quello che sta succedendo oggi discuteremo quanto improvvisare e quanto preparare non se improvvisare o se preparare entrate in quest'ottica beh i giocatori hanno come scopo il caos assoluto come è giusto che sia e come diceva il master ovviamente entrambe sono caratteristiche sono abilità potremmo dire fondamentali di un master ma c'è anche un ulteriore componente per cui questo assunto è ancora più importante perché se come me vi piace esplorare più manuali saprete già che ogni manuale ha il suo grado di preparazione un dnd e un not the end hanno due gradi completamente differenti di preparazione e anche due importanze diverse nella preparazione dove se in not the end prepari quanto prepari in dnd banalmente si rompe il gioco facile è così poi ovviamente come già detto tutti i manuali hanno le loro differenze e qui torniamo al fatto che sono importante entrambe le skill e direi che con le premesse abbiamo finito master che dici per me va bene allora inizio io perché sono quello più bello sono talmente bello che neanche quelli che vedono il video di questo vedranno il mio volto e come primo punto a favore per la preparazione qualcosa che so che piace a metà dei master l'altra metà dei master la detestano condialmente parlando soprattutto di giochi tradizionali ma non solo una dei grandi standard e grandi classici del gioco di ruolo sono le mappe di combattimento tutti prima o poi abbiamo giocato a un gioco con mappe di combattimento dalle mappe a griglie ultra complesse alla dnd a qualcosa di molto più sfumato come gli anelli concentrici di nume nera per indicare la distanza ma se voi avete un'idea prima di dove si recheranno i giocatori avrete la possibilità di realizzare mappe o anche solo andarvi a cercare foto andarvi a cercare filmati magari anche preparare degli interi contenuti audio video da far vedere ai giocatori nel momento e questo taglia un sacco di tempo nelle descrizioni e rende immediatamente comprensibile quello che state dicendo perché letteralmente fate vedere le figure se i giocatori sono distratti se i giocatori magari non capiscono bene i termini tecnici che usate mostragli una mappa risolve tutto immediatamente ovviamente però più sapete quello che sta per succedere più tempo e più dettagli avrete per poter inserire la mappa ed è qui che mi inserisco io a gamba tesa altro che mappe ed è il primo grande pro dell'improvvisazione comunque di una preponderanza dell'improvvisazione ovvero il lavoro off game perché il gioco di ruolo è un grande passatempo quando siamo al tavolo quindi di potremmo dire in game per l'appunto ma prevede anche della del lavoro pregresso anche nei giochi estremamente più scialla dal punto di vista di improvvisazione però appunto la preponderanza dell'improvvisazione aiuta a eliminare gran parte del lavoro precedente alla sessione al tavolo e quindi cose come mappe o diciamo schemi statistiche qualunque cosa di questo genere viene ridotta all'osso se non eliminate in alcune situazioni ciò vuol dire che sarà del lavoro che faremo in meno prima della sessione e nell'epoca di oggi così frenetica così complessa con le vite ultra riempite allo stremo che ci ritroviamo a vivere è un elemento secondo me importantissimo proprio per questo motivo qua perché non possiamo ragionare livello master in particolare in quei giochi che vedono questa presenza non possiamo ragionare solo in game solo del lavoro fatto al tavolo con il gruppo ma anche dobbiamo necessariamente ragionare anche su tutto ciò che viene prima di questo lavoro e che verrà dopo della sessione al tavolo e appunto grazie a una massiccia dose di improvvisazione andiamo a eliminare gran parte di questo di questo lavoro insomma direi che è un gran bel pro per dirla in modo semplice però a questo punto io ribatto molto facilmente dicendo che il gioco di ruolo per sua natura è una forma di intrattenimento multimediale per cui sì effettivamente uno potrebbe eliminare qualsiasi altra cosa che non sia semplicemente il dialogo tra i membri del tavolo però in realtà questo da una parte sminuirebbe il gioco perché uno dei vantaggi del gioco di ruolo è che voi potete introdurre nel gioco altre forme di media al di là del racconto orale che probabilmente la forma più basilare più antica di intrattenimento non vogliamo parlare di mappe parliamo di qualcosa di meglio di quello che piace a tutti quelli che vengono chiamati gli end out cioè quelle serie di cazzatine che il master prepara e quando il losco figuro che incontrate alla locanda vi propone la mappa del tesoro il master vi sta fisicamente porgendo un foglio che probabilmente ha passato con l'accendino per annerirne i bordi questo l'hanno fatto tutti e sì effettivamente avere fisicamente in mano la mappa non è indispensabile al gioco di ruolo però si gioca per intrattenersi per divertirsi per il fattore wow diciamo ed è molto più gratificante poter effettivamente prendere quella mappa e srotolarla sul tavolo o anche adesso si gioca tantissimo via internet avere su vassal avere su ward anvil le miniature dei mostri le icone dei mostri che hanno esattamente la forma che il master descrive al di là di essere più facile da comprendere qual è il mago è palesemente quello è come l'ha descritto il mago l'altro è il mutante perché come l'ha descritto il master è anche visivamente gratificante mettiamola così nei film ci sono un sacco di effetti speciali molti dei quali non si vedono neanche anzi gli effetti speciali fatti meglio sono quelli che non vedi e ce li mettono perché così il film è più bello a teatro ci sono semplicemente dei blocchi di legno dipinti sullo sfondo e oggettivamente di minore intrattenimento anche se la storia è esattamente la stessa e gli attori dicono esattamente le stesse battute io qui ti ribatto ma partendo proprio da quello che hai detto è vero banalmente banalmente è verissimo che è un handout potremmo dire di quasi ogni tipo va a creare molta gratificazione al tavolo comunque un effetto wow che non guasta mai per carità per carità io stesso in leggenda dei cinque anelli avendo una katana dietro l'angolo gioco con la katana al fianco sempre e comunque ogni volta che posso quindi si rende anche più autorevole come master molto molto c'è un po di timore in quel caso ma timore che piace tolto tolto il timore reverenziale causato dalla katana c'è però un altro fattore legato un po agli handout ma in realtà anche a tutto il resto è legato all'improvvisazione un handout a volte è anche un problema perché primo distrae distrae l'attenzione dei giocatori non sempre è chiaro banalmente nel momento in cui ti raffuori il tuo bellendout diventa quello la cosa più importante al tavolo si va a rompere di nuovo non sempre però si va a rompere il teatro della mente dove stanno avvenendo i fatti e si torna al tavolo da gioco con la coscienza potremmo dire detto così sembra qualcosa di quasi spirituale ma in realtà non è semplicemente come funzioni come funzioniamo noi a livello di cervello ma e qui arriva l'improvvisazione dove in questo caso io direi che anche superiore la gratificazione che viene da un botte risposta a una reazione genuina al tavolo senza interruzione del flusso della narrazione crea spesso degli effetti wow molto maggiori come dicevo io ho la katana bella katana fatta bene tra l'altro del parlando di cinema parlando appunto quella del film l'ultimo samurai molto carina banalmente ci piace insomma ma la maggiore il maggiore effetto legato a una katana banalmente è stato quando io ho descritto una katana a un giocatore in risposta agli eventi della della sessione e in realtà di tutta la mia la mini avventura che abbiamo fatto completamente improvvisata per improvvisare bene poi ci arriviamo c'è bisogno di diciamo una cultura alle spalle magari sotto certi su certi argomenti in questo caso specifico io sono un grande amante del giappone quindi e della storia quindi l'uso e come anche vengono forgiate le katane è legato alle mie conoscenze però è stato quel momento improvvisato l'intero rituale improvvisato che ha portato il maggiore effetto wow legato alla katana l'end out è stato utile in altre situazioni sicuramente ma l'effetto di splendore diciamo di di maggiore reazione da parte del del gruppo è arrivata nel momento delle descrizioni più improvvisate dei del botte risposta più genuino più rilassato anche perché improvvisare spesso elimina alcuni problemi al tavolo perché diventa più qualcosa di comune normale perché noi improvvisiamo tutti i giorni costantemente noi non sappiamo in precedenza cosa avviene nelle nostre vite quindi portare questo elemento al tavolo in forte presenza aiuta aiuta tantissimo però qua devo contraddirti su una cosa perché è vero noi nella nostra vita improvvisiamo costantemente ma quando noi siamo al tavolo dal gioco non stiamo vivendo una vita stiamo raccontando una storia e le storie a differenza della vita reale funzionano in base a delle regole e qui arriva la parte più importante della preparazione ci sono tutta una serie di elementi narrativi chi ha seguito il suo postcat o il mio canale probabilmente ha già un'idea di quello che stiamo parlando ma foreshadowing cioè l'introduzione di elementi prima che questi abbiano uno scopo nella storia e il loro scopo cambi in base alla presentazione il concetto di set reminder payoff viene quello che viene chiamato il seeding io come master sapendo che tra un paio di quest voi dovrete salvare la figlia del capitano della nave se so che tra magari mesi voi dovrete andare a salvare questa tipa la tipa ve la potrò introdurre prima in quest e magari potrò anche fare in modo che i vostri personaggi ci si affezionino a quel punto quando tra due o tre quest sta poveraccia verrà rapita non solo sarà mantenuta una verosimiglianza e coerenza del mondo la figlia del capitano rapita non verrà presentata improvvisamente solo per essere rapita era lì, lo sapevano tutti, i giocatori hanno ben in testa l'esistenza di questo PNG e se ho fatto bene il mio lavoro in preparazione di quel momento quando la figlia verrà rapita per i giocatori la cosa non verrà percepita come ah la nostra quest di oggi è salvare quella tipa ci sarà un attaccamento emotivo oddio hanno rapito la figlia del capitano dobbiamo immediatamente andare a salvarla in più ci sono andando proprio sul tecnico la struttura degli atti stessa poi indipendentemente se usate la struttura tre atti abbiamo parlato della leggenda dei cinque anelle quindi il Namyurenghi e Kyo o la struttura sette atti dell'epica tutte si basano su degli elementi ricorsivi e specifici il primo atto finisce, inizia con l'incidente iniziale e finisce con la perdita e l'innocenza la chiusura a seconda di quale teoria però voi come master dovete sapere cosa succede per sapere quando finisce l'atto se non avete nulla di preparato precedentemente come fate a sapere che qui è dove il cattivo deve avere la sua finta vittoria qua i giocatori devono avere la loro falsa sconfitta ah siamo a metà della quest svolta di pagina 60 il climax del secondo atto possono essere improvvisati? sì, fino a un certo punto però se avete preparato è meglio e anche nel caso proprio state improvvisando totalmente e decidete ah vabbè aspetto quando mi sembra che la storia arrivi a quel punto inserirò quell'elemento sì, però per fare questo ragionamento vuol dire che voi avevate un'idea precedente della struttura degli atti quindi comunque avevate già fatto una preparazione una preparazione generica però una preparazione c'era stata assolutamente e tu qui però mi dai il là per banalmente portare quello che è forse la mia ultima argomentazione prima di squainare la katana di più prima siamo due master che discutono abbiamo entrambi sempre ragione vedo lei mi piace, mi piace molto ma perché mi hai dato il là? perché tu hai detto una piccola frase è una cosa importantissima dal mio punto di vista forse la chiave di volta di questo ragionamento se ho fatto bene il mio lavoro di preparazione questa cosa questa cosa non è affatto scontata non è affatto scontata e infatti quello che io trovo più complesso e forse il più grande contro potremmo dire della preparazione oltre a quello che è l'off game è il fare bene preparazione è difficile o meglio può essere difficile perché? perché quando vai a creare tante strutture o tanti hand out o qualunque cosa che vada a preparare mettiamola così ovviamente tornando al discorso di quando è preponderante questa cosa ecco che tu sarai portato come master a metterla in gioco a volte se non fai bene il tuo lavoro forzando la narrazione forzando i giocatori perché? perché hai fatto del lavoro che vuoi mostrare banalmente perché magari hai creato un tunnel da cui tu stesso non sai come uscire e quindi costringi i giocatori a seguire questo tunnel in modo palese perché questo è il grande problema della preparazione o comunque del quello che è diciamo erroneamente considerato railroading in realtà è solo creazione di una storia fondamentalmente ma il railroading sbagliato è questo diciamo il binario spezzato esatto io nei miei video l'ho chiamato così non so se esiste un termine reale non importa ma mi piace un sacco il binario spezzato perché il problema è lì quando tu palesi quella struttura i giocatori con l'erronea preparazione succede spessissimo ecco che si spezza la magia e si torna ad uscire dal dal teatro della mente dalla storia che stiamo vivendo dai momenti diciamo in gioco e si torna a ricordarci che siamo 4, 5 x persone intorno a un tavolo che per carità non ci si dimentica mai di essere questo però il pro in questo senso dell'improvvisazione è che come dicevo prima siamo molto più portati a improvvisare non vuol dire che non si può sbagliare anzi anche improvvisando si può andare a creare situazioni che non hanno alcun senso e questo è un bel problema in un gioco di narrazione perché le narrazioni sono sempre sensate sono una conseguenza logica in realtà come dicevi prima tu master qual è però diciamo la chiave di volta di nuovo dell'improvvisazione e preparazione su questo elemento noi appunto siamo abituati a improvvisare e in più la nostra il nostro bel cervello è quello che viene considerata una macchina predittiva quindi è abituata ad essere due mosse avanti a quello che sta accadendo adesso quindi di nuovo potremmo comunque considerarla in un certo senso preparazione anche se per me rientra nella sfera dell'improvvisazione ovvero mentre le cose accadono al tavolo e quindi mentre i giocatori prendono delle decisioni di qualunque sorta compiono delle azioni di qualunque sorta che vanno a impattare la narrazione il nostro cervello sta già pensando alle conseguenze e quindi a come inserire certi elementi ed è qui però ti voglio ti voglio fermare perché c'è un contro argomento allora sì è vero però i master quelli meno giovani tutti sanno una cosa tu improvvisi sulle scelte dei giocatori nei primi anni della tua carriera ma ogni gioco per quanto possa avere un respiro più ampio o magari alcuni giochi narrativi si concentrano su alcuni specifici tipi di narrazione però indipendentemente ogni gioco ha una serie di scelte possibili da parte dei giocatori relativamente limitata un parliamo di me io ho giocato al sistema 3.x praticamente per 20 anni se io adesso dovessi fare una campagna di 3.x è veramente improbabile che i miei giocatori possano prendere una decisione che io non ho mai visto precedentemente prendere in tutti i 20 anni e stiamo parlando di un gioco che ha un focus abbastanza largo per cui un master dopo un tot sta effettivamente improvvisando o semplicemente avendo già affrontato praticamente tutte le situazioni che possono verificarsi al gioco sta semplicemente ricordando come ha gestito le cose l'ultima volta e quindi in realtà anche quella è preparazione e qui io ti controrispondo alla tua controrisposta per un semplice motivo in realtà sono molto d'accordo in realtà questo è un po' il concetto del dove inizia la preparazione e dove finisce l'improvvisazione insomma perché in realtà sono elementi che vanno a diciamo sfumare l'uno nell'altro ecco però però innanzitutto una postilla tu stai mettendo diciamo dando per scontato che io mi ricordi qualcosa nella mia vita una cosa molto difficile molto difficile siamo sempre nell'ambito del se sei bravo a farlo ma guarda questo è più una questione di danni mentali da bambino troppe botte in testa probabilmente non lo so fatto sta che non ricordo nulla ma al di là del siparietto in realtà c'è un'effettiva cosa fondamentale in questo noi non improvvisiamo nel senso di creare da zero o nel senso di creare da zero in base a una risposta che abbiamo ricevuto improvvisare come anche essere ispirati avere un'idea le idee non sono qualcosa che viene da zero dal nulla cosmico ti scende in testa un'idea e in questo modo anche l'ispirazione eh sì l'improvvisazione cos'è che in realtà facciamo noi prendiamo informazioni che già abbiamo dentro di noi come dicevo prima io grazie a passione che non è legata al gioco di ruolo semplicemente amo il Giappone e la sua cultura mi piace approfondire sono uno che a cui piace la storia quindi mi piace studiare la storia e piace anche l'artigianato e quindi mi piace studiare anche i processi di creazione e produzione di determinati oggetti e quale simbolo maggiore del Giappone se non la katana ecco che io avevo quelle informazioni quando ho improvvisato mettendoli in campo quindi mettendo in campo una preparazione pregressa è uscito tutto perfetto è stata una grande scena per l'appunto ed ecco che in questo senso rientra anche il ricordo di giocatori passati poi come appena detto in realtà l'improvvisazione sfuma nella preparazione la preparazione sfuma nell'improvvisazione specialmente quando si ha grande esperienza che è un po' quello che succede in qualunque aspetto della vita umana perché esperienza significa conoscere un settore qualunque esso sia e di conseguenza essere preparato agli imprevisti però è un essere pronto a improvvisare bene agli imprevisti perché ho già avuto quell'esperienza e qui è quasi un problema linguistico più che effettivo diciamo se vogliamo metterla proprio come chiosa finale indipendentemente da se siete più propensi all'improvvisazione più propensi alla preparazione in realtà non esiste una scelta corretta è una questione anche di capacità personali ricordatevi però che quelle capacità personali in un modo nell'altro dovete averla non potete usare la totale improvvisazione come scusa per coprire il fatto che non sapete quello che state facendo al contrario non potete neanche cercare di preparare nei minimi dettagli solo per evitare di venire colti alla sprovvista anche dalla minima scelta dei giocatori prima di poter preparare prima di poter improvvisare serve avere comunque una conoscenza sia teorica che pratica del gioco che state conducendo e del gioco di ruolo in generale assolutamente aggiungo che spesso si prepara o si improvvisa a seconda di come dettano della propensione del carattere proprio per paura paura di essere colti alla sprovvista per l'improvvisatore scusami per il preparatore e invece per l'improvvisatore è paura di creare qualcosa che non piaccia creare a monte qualcosa che non piaccia e quindi mi butto in mezzo alla insomma nell'arena con i giocatori e quello che accade accade e questo è paura ma una piccola piccola aggiunta la conoscenza è fondamentale lo studio o comunque la il sapere condurre il gioco barra conoscere il gioco in pratica in teoria è fondamentale ma altrettanto fondamentale è sbattere il muso è sbagliare cadere rialzarti perché avere paura dell'errore è un errore a sua volta è forse uno dei peggiori in realtà perché ci blocca dal provare io non non avevo mai masterato niente prima di notte di no prima di le notti di nibiru e lo avevo giocato tipo tre volte solo che a casa ero l'unico che aveva interesse a diciamo studiarlo approfonditamente l'ho studiato l'ho masterato ho cannato completamente la prima campagna tant'è che è rimasta appesa però oggi sono un master migliore molto migliore di quel di quel master lì insomma ecco perché c'è un aggio che dice che non sarai mai preparato a condurre una campagna come nel momento in cui è appena finito la campagna assolutamente non lo conoscevo me lo segnerò se non me lo dimentico cosa molto probabile però molto bello bene dibattito direi piuttosto si li abbiamo annoiati fin troppo ma io mi sono divertito poi loro possono fare quello che vogliono noi in realtà facciamo questi video semplicemente perché ci piace chiacchierare tra di noi ed è un modo per non dovrà preparare altri video altri podcast assolutamente vero fan fact noi dovevamo iniziare a registrare alle due e mezza alle due e mezza ci siamo collegati abbiamo iniziato a registrare alle due e quarantacinque alle sì ciao alle sedici e quarantacinque ci piace parlare molto così io oggi pomeriggio avrei dovuto preparare la quest che mastererò stasera quindi andrò contro il mio interesse e avventerò che stasera improvviserò bravo così si fa ecco ah ecco piccola postilla che questa forza cavolo la dovevo dire prima mi è venuta in mente proprio per dire quanto è importante saper fare entrambi ci sono sessioni in cui improvvisare è molto più semplice o necessario ci sono sessioni di una stessa campagna quindi stiamo parlando in cui preparare è fondamentale e improvvisare è sconsigliato anche questo è da imparare sapersi gestire i momenti sì ok ora ho decisamente finito questa volta diciamo che e questo era il dibattito siamo riusciti anche a essere delle persone civili stranamente perché siamo bravi a fingere adesso ovviamente la parola sta a voi scrivetemi qui sotto o andate a commentare sul suo podcast quale secondo voi è più importante come abilità sviluppare tra la preparazione e il dibattito per un master o raccontate di casi in cui voi avete clamorosamente fallito in una delle due cose per il resto serve sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale andatevi a vedere anche il podcast del pellegrino che merita iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche io sono il master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video è una bella lettura porca troia ho pure mandato a fangolo mia sorella prima per lo stesso motivo questo pezzo lo tagliamo no